Musica Bella a tutti ragazzi con Lorenzo di Cipunta Oggi ci troviamo sul primo episodio di Clash Royale Come vedete sono in Arena 9 E diciamo si non ho 2600 trofei Però c'è appunto sto problema Che oggi non so perchè la connessione fino adesso non mi andava Adesso mi va Allora questo è il mio mazzo Oggi proveremo a prendere il baule della corona E vedete ho due leggendarie come vi avevo detto in Arena News Poi vabbè allo shop non mi serve a niente E intanto abbiamo questo baule d'argento Allora oro vabbè Torre infernale e 10 scaltri che non ci servono a niente Qui come vedete sono il sesto baule del clan Dai Siamo presi abbastanza bene Adesso quindi cercheremo di fare il baule della corona Ok prima avversario Allora direi di partire Non c'ho proprio una tattica perchè i barbari scalti non ce l'ho Però io direi di provare Ecco non va bene Non mi adatto agli scalti Quindi quello è un problema Fermarli Ok allora stiamo infliggendo abbastanza danni Qua adesso non mi va il touch Che cavolo Ok siamo riusciti ad andare in vantaggio Adesso difendiamoci dalla valchiria Che fa un bel po' di danno Ok E i barbari scalti intanto colpiscono Dai che gli buttate giù la torre Dai colpite bravo Bravo il barbari scelto Dai 500 di vite Un altro colpetto Bravissimo Oh eppure è morto sul colpo Ok Ok da questo dobbiamo difenderci Bloccatelo Bloccatelo No Che sfiga c'ha la zappa Però uno è sopravvissuto E l'ha fatto fuori Ok siamo avanti di una Di una torre Io direi adesso di partire così E tenere pronta la scarica Non me l'aspettavo Devo dire la verità Non me l'aspettavo Cioè mi aspettavo Orde di sgarri Di scheletri Ma questo non me l'aspettavo Ok Il mini pek è andato Il mini pek è andato E' una cosa importante Io direi di difendere Vabbè quello non fa tanto danno Ma quello si Sperando che non c'ha la zappa Non c'hai la zappa Vero non c'hai la zappa Non c'ha la zappa Non c'ha la zappa Non c'ha la zappa Perfetto Perfetto Pure la principessa muore Muori principessa muori Muori Bravo squeletrino Ammazzato pure la principessa Bravo squeletrino Dato di là c'è La principessa che fa Le viti importanti Degli arcieri Io direi di Bloccarli con questa Ok Abbiamo ridotto un pochino E adesso io direi Di provare La mia tecnica Che non ho mai provato In questo video E appunto Che sarebbe questa E madonna Se funziona Guardate mi sono imbalbettato Sto vedendo Mamma mia se funziona Io adesso Direi di andare Diracolo Ok questo qua Si ci lascia Sono tre corone Assicurata Di fare il bastarde Di non morare più truppi Di morare più del tronco Perché non è neanche servito Prima vittoria Messi si accaccia Tre corone Ci avviciniamo sempre di più Al baule della corona Non ci ha fatto neanche una torre Attenzione Baule super magico Non ci credo Non ci credo Primo episodio Baule super magico Non ci posso credere È il primo che trovo Cioè Stavo registrando No Non ci credo È il primo baule super magico Che trovo Stavo registrando Non ci credo Ma che culo Che c'ho raga Vai subito con la seconda Mamma mia Ecco Finita Ok Adesso ho cambiato la connessione Sperando che questa funzioni Allora Mettiamo una scarica Taticissima Ecco So io direi di partire Direttamente così Con la nostra tecnica Vai che ci lascia Vai che ci la No Quello non ci Si Hanno colpito i spiritelli Hanno colpito i spiritelli Ok Forse l'ho messo Un po' troppo presto Però Teoria Dovrebbe riuscire A farlo anche fuori No Ok Dovrebbe Servirebbe un altro colpo C'è riuscito C'è riuscito C'è riuscito Attenzione Ma non la scarica Sì Ha pure spaccato la clone Ok Doveva ricordarci Che c'è la clone Quello glielo blocchiamo così Non serve buttare L'ordine Oddio Adesso potremmo provare L'altra combo Che non so Se ho già mostrato Mi sembra di sì Hog rider's carry Quando veramente Quello su chi va Per la pirla Per la pirla È andato sull'og rider E l'altro che non Oh Che bene essere anche sta partita Che sfiga però Perché c'è Fino adesso abbiamo avuto culo Che abbiamo trovato Bull super magico Però Minchia Cioè Proprio nella partita dopo Dovevo partire Beh almeno non è partita In quella del super magico Dai Ok Barba di scelte Spiriti di fuoco Potremmo anche provare L'attacco Tanto Bull della corona Messa in sacoccia Secco Stupido No Non è stupido No Ok Allora Se riuscite A fargli un po' di danni Adesso Tutte Le truppe che abbiamo Partite Non ha affatto Tempo Vabbè No 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 Ma non lo scarica No In ritardo Vabbè Stiamo Stiamo vincendo Questa è una buonissima cosa Quelli Li canteriamo così Li canteriamo Quello Lo blocchiamo così Chiedo che ormai Oddio Quelli Quando li ha trovati Ok Così credo di riuscire a bloccarlo Per cui Cerca di fermare gli spiriti La grider Ti l'ha fatto Un sub No Quello lo dobbiamo bloccare Quello lo dobbiamo bloccare Quello lo dobbiamo bloccare Ma ormai la partita è finita Ciccio Forse anche due corone Anche due corone 2 a 0 Si Oh L'avversario ha pure quitato Cioè Rendetevi conto Baule gigante Madonna che culo Mamma che culo Forse quello prima Era quello del baule magico Ma chi se ne frega Ma prima sto baule Della corona Oro Gemme Ci mancherebbe solo La leggendaria In baule No vabbè Ci sto troppo Madonna ragazzi Che culo Facciamoci l'ultima Va Magari Il baule magico Non credo Perché per me La connessione è partita Ma raga Ma questo è l'episodio Veramente Non si poteva iniziare meglio Cioè veramente Siamo partiti col botto Cioè Mori gigante Ok Il gigante non ha mollato colpi Quello non fa quasi niente di danno Possiamo anche lasciarlo colpire Adesso non so se partire con lo grinder E fare con gli sgarri Oppure con gli spiriti di fuoco Perché spiriti Beh partiamo con gli spiriti di fuoco Non ce lo scarica Ma non lo scarico il tempo Va bene dai Sì Quello non mi era corto la grinder Un altro colpetto Va bene dai Non importa Abbiamo fatto bene a tenerci gli sgarri Benissimo abbiamo fatto Ok io adesso direi di partire con i barbari scelti E tenere pronto il tronco Nel caso Eccola là Eccola là Le hit importanti Adesso però dobbiamo difenderci di qua I goblin sono andati I goblin sono andati Ma non mirare alla strega Porca vacca C'è lo stregone prima Ok Siamo sotto Però possiamo recuperare Quando vogliamo Cioè di là Non me l'aspettavo Questo non me l'aspettavo Devo dire la verità 964 di vita No 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 Stiamo scherzando Stiamo scherzando Dipenditi Più da simile alla torre di là Ok Io adesso direi di andare con questi gli sfidi Brava principessa Quello Potrebbe essere un problema Esattamente Perché Mori No 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 Ok E' andata E' andata molta roba Raga E' andata Cioè Stiamo veramente Facendo una partita Rischiosissima Perché ce la stiamo Rischiando Ti prego Nooo Vabbè dai Due perse Una per colpa della connessione Ma due vinte E in quelle due vinte Madonna abbiamo trovato il mondo Ok ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto E vi deve essere piaciuto Cavolo Super magico e gigante In una sola Nel prossimo video Ve li apro tutti e due Potrei gemmarli Di entrambi Però No perché voglio tenerlo Per un bavolo leggendario Nello shop Quindi vi ricordo Lasciate il like Iscrivetevi assolutamente Dopo questa sculata Commentate E noi ci vediamo In un prossimo video Bella raga